Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Luca Ward sarà la voce di Project Galileo, il Souls-like game italiano realizzato dal team di sviluppo milanese JAMA Games. Il progetto di videogioco action ambientato in una rappresentazione fantasy del territorio italiano ha debuttato al Tokyo Game Show 2021 con un breve teaser che svela la collaborazione con il celebre doppiatore, già impegnato nel passato in importanti titoli dell'industria videoludica. Luca Ward è la voce di Sam Fisher in Splinter Cell e di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077.